Nonostante gli annunci e le promesse di intervento, la piattaforma per le prenotazioni della terza dose di vaccino ad Avellino, soprattutto per gli anziani e soggetti fragili, resta distante anni luce. Un miraggio per chi appena scatta l'atteso start al link per l'accesso si precipita per compiere l'impresa ma resta puntualmente bruciato dai più lesti e fortunati da chi magari può vantare il click più veloce del West. In pochi secondi vengono polverizzati i posti disponibili per il centro vaccinale del capoluogo. Tanti anche stamane ci hanno segnalato disfunzioni e disagi, puntando il dito contro modalità di accesso alla piattaforma che nonostante l'impegno dell'ASL ha mirato a snellire le procedure, all'estendo una corsia preferenziale in favore soprattutto degli anziani, risultano comunque mura invalicabili e non va meglio agli operatori della misericordia. Il presidente della confraternita di Avellino Guido d'Avanzo da ieri ha attivato il numero verde come supporto alle persone in attesa della terza dose. Numerose le richieste di aiuto ma alla piattaforma sembrano fare sconti a nessuno. La prima giornata è stata ieri, ieri dopo le dichiarazioni del presidente l'avvocato d'Avanzo, dove vi ricordo anche il numero di nuovo 0825 78 46 31, dove ha annunciato la disponibilità della misericordia di Avellino per aiutare le persone che sono anziane e stanno sole, insomma non hanno familiari che possono aiutarle a fare la prenotazione sulla piattaforma per la prenotazione dei vaccini. Allora ieri la prima giornata in verità noi non ci aspettavamo queste numerose chiamate, in verità sono arrivate 30-40 chiamate, precisamente adesso non le so di però intorno alle 30-40 e siamo riusciti a fare 5-6 prenotazioni e poi dopo la piattaforma si è bloccata, le prenotazioni sono state fatte intorno alle 9 di mattina, poi dopo mezz'ora tre quarti d'ora, insomma già non andava più. Quindi avete incontrato anche voi delle difficoltà a entrare nella piattaforma? Purtroppo devo dire di sì, sperando che normalmente sia solo un periodo di difficoltà, poi si sblocchi la situazione per essere d'aiuto a tutte le persone che chiamano, quando meno ad un numero maggiore di quello che è stato ieri. Tutte persone anziane? Tutte persone anziane e sole, normalmente oggi sappiamo che la popolazione è l'età media avanzata e quindi le persone sole a casa, anziane, che non hanno parenti che possono aiutare sono sempre di più. Noi lo viviamo quotidianamente perché riceviamo chiamate tutti i giorni, non solo per le prenotazioni ma anche per altre cose normalmente.